La cosa grave è che il Genoa ha battuto l'Inter meritatamente senza fare la partita della vita, ha fatto una partita ordinata, buona e l'Inter è proprio caduta in una trappola, come se fosse caduta in una trappola. È caduta in una trappola? Non mi sembra una trappola. L'Inter ha tenuto la partita in equilibrio, poi siccome stiamo attraversando un periodo difficile queste difficoltà avrebbero bisogno dell'aiuto dell'episodio che ti gira a favore, mentre ti girano un po' contro anche in questo momento qui ancora di più e di conseguenza la reazione dovrebbe essere ancora più imponente, ancora più importante che per certi versi secondo me c'è anche un po' stata nel secondo tempo, però poi quando perdi 2-0 valla a raccontare, valla a argomentare, diventa ancora più difficile. Però da ultimo la squadra ha fatto gira a palla con più velocità, sì è vero che stavamo 2-0, ma io ho visto il tentativo di mantenere ugualmente degli equilibri e forzare di più. Poi è chiaro che se non fai gol con tutti quei traversoni che sono passati lì davanti, che fai, diventa difficile farlo in un'altra maniera, perché loro ormai si sono abbassati tutti al limite dell'aria, avevano creato poi questa densità e questo numero di calciatori, questo folto lì, in quella tre quarti, dove fai gol riuscendo a buttare una palla dentro, fare un buon cross aggirandogli poi dall'esterno, però non ci siamo riusciti e continuo a questo momento di difficoltà. Prego. Mister, rispetto alla prima parte della stagione, a me ha colpito il calo di rendimento del comparto centrocampisti, nel senso Borca, Valero, Vestino e Gagliardini, che una volta hanno comunque l'ossatura della sua squadra. E vorrei chiedere a lei, visto che lei anche questa settimana farà dei doppi allenamenti, e pensa che sia legato al fatto che abbiano poca benzina dopo la sosta, ci sia trattato un problema fisico che adesso non è ancora stato risolto e che quindi sia magari un momento di crisi passeggera dovuta comunque allo scarso livello di forma di chi sta in mezzo. Allora, non è un problema da un punto di vista fisico, assolutamente no, ma anche se lo fosse, questo è assolutamente no con i dati di fatto, con le misurazioni della tecnologia che si ha ora a disposizione, ma anche se fosse così, è sbagliato andarla a trattare in quella direzione lì, per questo modo qui, perché se a un calciatore gli dici che non è in condizione, cioè per ritrovargli la condizione fisica vuol dire che per 3-4 settimane devi perdere le partite perché non ce la fai, è sbagliatissimo da un punto di vista di gestione mentale, da un punto di vista di gestione di gruppo, una roba contraria proprio a quello che dovrebbe essere il modo, il senso, la ricerca, la soluzione, va contro tutto questo tipo di analisi qui. È chiaro che facciamo girare la palla non velocissima, la facciamo girare lentamente, ma anche questo ci succedeva anche agli inizi, perché le caratteristiche sono un po' queste qui, non è che la facessimo girare molto meglio all'inizio. I nostri equilibri da un punto di vista di autostima sono un po' sottili, sono minati, soprattutto in questo periodo qui, e quando poi ti capita l'episodio che ti gira contro anziché che ti gira a favore, diventa ancora più difficile. Noi abbiamo altra strada, quella di lavorare, di stare attaccati a pezzo e di cercare di modificare pezzettino dopo pezzettino, passo dopo passo. Situazione dopo situazione non può avvenire una cosa clamorosa che ribalta poi quello che stiamo facendo. è solo l'impegno quotidiano, è solo il modo di lavorare serio e professionale che ci può trovare la soluzione. Magari facendo sì che non ci succeda poi di andare sotto come abbiamo fatto stasera, non prendendo un gol come quello che abbiamo preso stasera. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Insomma, ripeto ancora una volta il concetto degli episodi, ti capita l'episodio sfortunato e poi a quel punto è difficile... Sì, è un po' riduttivo. Anche perché fosse una partita persa così. Non mi è sembrata un'analisi così approfondita, comunque appunto un po' scontata nel richiamare come causa della sconfitta solo gli episodi. È vero che l'Inter è stata sfortunata, però ci sono sicuramente dei problemi, come diceva giustamente Gianluca, che si trascinano e che stanno facendo perdere dei punti all'Inter, che forse nel girone d'andata aveva anche sempre la stessa formazione titolare dei migliori che adesso per motivi fisici non sono stati schierati. Sicardi... Sono due perni. Ma hai tolto, se non sbaglio, il 60% dei gol. Esatto, 68%. Ma a me quelli che fanno veramente ridere, e quelli che per tutta la settimana mi hanno detto che bisognava lasciare fuori Perisic, perché se uno non le vede le partite, ahimè, non le capisce. Perisic, che continuava a sparare la palla in tribuna, perché è giù di condizione, però tutte quelle palle che arrivavano in centro, c'era sempre lui lì a prenderle, il problema è che poi le calciava in tribuna. e noi abbiamo detto che pipa è giù di condizione, fuori. Ho capito, ma oggi tutte le palle che ha messo Cansello, Eder non c'era mai. Non so come dire, cioè Eder non c'era mai, Pinamonti non c'è mai. E io sono contento perché magari dalla poltrona capiscono che forse, come chi è che ha detto abbiamo perso il 60% dei gol? Ragazzi, cioè... No, la logica lo dice, no? E tra i quattro giocatori più forti nel suo ruolo, tra i quattro più forti del mondo, eh. Magari, Riccardi. Infatti io non capisco, io veramente, non capisco. C'è sempre il comico che ti dice facciamo giocare Padelli al posto di andando. Claudio, però le cose andavano male. Ma con questa stampa hanno anche evidenziato il calo vero, è una delle motivazioni del centro campo. Del centro campo. Quello è un problema. Io devo dire essenzialmente che abbiamo capito bene la risposta. La risposta non c'è all'amico Pasquino, perché, e il collega, perché purtroppo è reale questa cosa qui, è molto molto grave. Cioè Spalletti dice non possiamo affrontarla così, ma in realtà il problema è quello. Il problema è quello. Il problema è quello e soprattutto peggio ancora, perché tu hai uno da mettere lì in mezzo, Gagliardini che stasera è andato dignitosamente. No, infatti sono dei migliori Gagliardini. Capito ragazzi, però siamo sempre qui, normalmente, con l'Inter che deve andare bene. Scusate, se questo, quello che ho visto stasera è quello che può fare Gagliardini. No, no. Vuol dire che è un giocatore medio-basso. Ma sai, tutto è reale. Non voglio fare i gesti, però Vecino, ho capito, ma all'inizio come doveva essere? Scusate, perché sennò qua, Gio Mario, top player nostro, perché non abbiamo preso N'Angolan con Maglia numero 10, morto. Brozovic, magari un pelo di intelligenza, che si alterna con Gagliardini, Borcavalere e Vecino. Se perdi Borcavalere e Vecino, Gagliardini è il primo cambio, no? E Brozovic è uno su quale non puoi contare. Mi sembra talmente evidente e più hai preso Rafinha. Ma Rafinha è convalescente, abbiamo detto, perché sennò starebbe a Barcellona. Non è che ci vuole un grande studio. Dall'altra parte, però, Gianluca, una squadra che ha solo il campionato, vedere come sono messi questi giocatori qua. Physicamente. Questo, dico, no? Cioè, non è che dovevi fare 300 partite. Anche perché Claudio, molte volte, Borcavalere perde dei palloni, perde dei palloni e fa ripartire degli altri. Io sto vedendo peggio Vecino di Borcavalere in questo periodo, eh. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, che almeno Borcavalere fa girare la palla. Sto vedendo peggio Vecino. Veramente, non è pervenuto in queste ultime partite. Eh, la madonna, chi è che schifo, ti ricordi? Sì. Ho capito, ma siccome non sei il turno al solito cosa, se sei un top player, un campione, duri nove mesi. Se sei un buon giocatore, ne fai tre bene, due male, uno bene, uno male. Spalletti allora è preoccupante, perché Spalletti dice, non possiamo affrontarlo come problema fisico, perché se no dovremmo pensare di lasciare tre, quattro partite ancora per recuperare la... Cioè, allora non ce li hai. Eh... Dovrai aspettare ancora, per rivedere il vessino che ci aveva fatto dire. Tu devi augurarti solo una cosa, Claudio, tu devi augurarti solo una cosa, che è quella che io mi auguro. Che Roma e Lazio continuino ad essere distratte anche giustamente da altri impegni, e che noi portiamo il giocatore, che te ripeto, convalescente, decente e lungo-decente e superiore a tutti gli altri, nella condizione di durare partite intere. Allora arrivi terzo. Allora arrivi terzo. No, no, Gianluca, Gianluca, poi... No, scusa. Arrivì quarto, perché quarto, il tuo valore. Gianluca. Quel tuo valore è quarso. Hai detto, se tu porti questo giocatore a giocare 90 minuti, questo giocatore è di una levatura che non ce l'ha, le altre non ce l'ha, Roma là non ce l'ha. Ma non c'entra, ma non è che la Playstation di là c'hanno Nainggolan, Stroessman, Florenzi, e chi? E tu c'hai sempre D'Ambrosio e non hai Colaro, cioè alla fine, Raffinia ti dà il raggiungimento di quello che è il tuo obiettivo quando giri al massimo. Eh, porca miseria. Stiamo ancora con il messaggio da casa. Puoi girare molto. Si scrivono da domenica in campo a Lisandro Lopez. Lisandro Lopez. Subito. E poi non capisco come faccio ad essere fiducioso Gianluca, io non vedo nessuna possibilità di qualificarci per noi. Ma io sono circondato da gente che dice moriremo subito. Subito? Cioè tu sei per Lisandro subito? Lisandro, anche lì, parliamo sempre. Lisandro è un altro che non giocava là. Quindi come condizione è più indietro dell'Andrea che è tutti i giorni lì che corre. Che non giocava per me. Ho capito, però fa gli allenamenti insieme. La non correva a Portogallo, Lisandro. Io capisco da fuori, chi non è mai stato ad Appiano Gentile o a Milamello, non l'ha mai visti, no? Pensa di saperne di più. Ma ci sono test, ci sono preparazioni. È ovvio che Lisandro Lopez come condizione è più indietro di Ranocchia. Però, scusami, anche chi non sa niente vede le partite, no? E dice, settimana scorsa si fa male Miranda e entra Lisandro Lopez. Perché questa settimana? C'erano tutte e due lì. Ha giocato Ranocchia e dice che Lisandro Lopez. Evidentemente, scusa, guarda la prestazione di Lisandro Lopez e dice... Errore. Ti rispondo a questa domanda molto semplicemente. Settimana scorsa Lisandro Lopez doveva fare... Doveva fare? Un tempo. Eh. Ok? Poteva fare un tempo. E infatti è entrato Lisandro Lopez. Stasera, che dovevi giocare dall'inizio, Lisandro Lopez non è in condizione per giocare 90. È in condizione per giocare probabilmente 45. Perché poi ha giocato male, in momenti gli spaccano una gamba. Ha avuto anche dei problemi stasettimana per quella gamba che si è piegata. È ovvio che oggi giocasse Ranocchia. È ovvio perché ha i 90. Lisandro Lopez i 90 non li hanno. E ma è... Quindi settimana prossima col Benevento ti dico chi gioca Ranocchia se non ha ancora Lisandro Lopez i 90. Ma col Benevento non è un problema che gioca Ranocchia. Il primo tiro che sbatte sulla bandierina, la bandierina sbatte sulla lunga di un altro, probabilmente andrà sull'orecchio di Ranocchia e andrà dentro. Però spero che col Benevento riusciamo a farne due. C'è un'altra questione. Seppur vero da un lato, l'abbiamo sempre detto tutti, che l'Inter aveva solo l'impegno del campionato e al limite la Coppa Italia dove è uscita subito. Però dall'altro lato è anche vero che non avendo una rosa folta, se si fosse infortunato, perché non c'è solo il problema, il fatto che tu puoi giocare più competizioni. Ma anche se ne giochi una e la panchina corta ti si spaccano i migliori, e poi dopo è ovvio che i sostituti, e abbiamo notato, tu senza Miranda, Perisic e Icardi, e se non sei in condizione generale, scusami, e sei costretto a convocare Lombardoni ed Emmers, e Rafinha Povè, tu perdi col Geno. Che stai in condizione? Non c'era mai nessuno. Se vogliamo fermarci qui un attimo, perché mi fanno cello, mi vedo dalla regia, salutiamo Massico.